E' una quando e' una volta che il palco cuore prima Gua Aveva il lavoro Mentre sono ancora una ricca Sì C'è una vittima Questa è una vittima Ho fatto Oggi è un altro Dio Dio Non ho fatto Lui Ma è un altro Il primo Dio Si Si chiamatevi così. Cosa le spettacere? Cosa? Cosa? Cosa su? Non. Cosa? La mia panna è bella un po между dietro. Cosa? Beh, non? Cosa? 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 Si. Non, non, non è un paese che non mi fanno fare così, non mi fanno fare così. Non mi fanno fare così, non mi fanno fare così. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti